ciao ciao a tutti benvenuti o bentornati in questo nuovo video gaming smr oggi continuiamo la nostra avventura su crash d'handicott 4 purtroppo che già vedo che c'è l'ultimo livello da fare di questa maschera bruttissima e poi ci sarà quel boss ringretinito e mi viene l'ansia questo è l'ultimo livello e sarà difficilissimo e ho paurissima a farlo poi volevo guardare un po' le skin che ho sbloccato e che cos'è questa cosa orribile? una cosa non brutta di più o scena? e c'è anche il crash mamma mia ragazzi bruttissimi no niente non mi piace una non so poi facciamo questa ho paura raga allora io lo provo si vede che proprio non ce la faccio non lo faccio e facciamo i livelli quelli delle videocassette che ho trovato ne ho trovate due e ne facciamo quelle oppure faccio qualche livello di quella tipa alta ci sto vediamo un po' ma non lo so la vedo male non mi convince e mi ricordo che questo livello è difficilissimo perdere tutte le vite ma direte ma no dai ti buttare giù così ma se avete visto i miei vecchi video capirete molto bene che infatti io ho fatto quei livelli orribili e io non riuscirò mai a sperarli oh mio dio la mia playstation ovviamente come sempre sta esplodendo spero non dia fastidio purtroppo non ci posso fare niente io finora spero di aver preso tutto tutte le scatole perché sennò è la fine mamma mia che ventola ragazzi allora e finora tutto bene voglio non dirlo troppo ad alta voce ok no ok ma vai a cagare ok 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 caccio ok 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 perché faccio così quanto sono imbecille quanto sono scemo ho perso una vita così proprio stupidamente classico classico di me non mi devo far prendere dal panico non mi devo far prendere dal panico allora, allora, allora c'è il bonus? non immagino il bonus spero non sia troppo difficile in l'ansia no, non ho capito se devo andarmene subito su o devo spaccarle posso spaccarle forse un'annia e un'annia un'annia oddio che culo che culo pazzesco che culo pazzesco ragazzi confermo non so perché è riuscita a venirmi così bene al primo colpo comunque andiamo avanti porca puttana mi sono fatta prendere dall'ansia dal coso dal leone ma che cazzo vedi perdo vite inutilmente fastidio niente mi sta su il cazzo e papà culo spero di aver preso tutto che cazzo sto facendo no vabbè ma qua c'è anche un segreto che io non riuscirò mai a fare ti devi levare dalla minchia perfetto perfetto sotto di là c'è un segreto per andare giù lì vedi dove ci sono quelle mele complicato da fare io ci provo ma non riesco a farlo ma non riesco a farlo non riesco a farlo c'è non mi devo stare ferma là come un ceppo è complicato Cristo, Cristo poi tu non è che dici stai morendo per cose difficilissime no, per cose stupide madonna, quelle nitro di merda quanto odio stilioni di merda, guarda eh, grazie grazie perché mi stavo innervosendo oh, oh qua è difficile andare dall'altra parte non so, non so no, ce l'avevo fatta ce l'avevo fatta gribio gribio vaffanculo fuoco di merda fuoco di merda dai che noia madonna niente c'ho sempre malissimo adesso non mi riuscirà più vedrai vedrai dai oddio oddio ce l'ho fatta mamma mia vieni emozionata a parte che mi emoziono per niente perché non so neanche se riuscirò mai a finire questo livello comunque allora come funziona qua non si riesce ad andare da qua aspetta e vabbè dai dai devo rifare di nuovo ma non serve non ci sono scatole quindi non serve per fortuna già me l'ho fatta a cagare meglio così per l'amor di dio mi ha tolto la maschera chi cazzo gli ha detto di togliermi la maschera non si sa volevo andare là sopra oh che noia gribio dove stai andando dove cavolo vai dove vai dove sto andando oddio che culo mamma porca puttana porca puttana questo vento di merda è orribile oddio no non capisco perché andando di là mi ha tolto la maschera diciamo ma non me la devi togliere così ti levi ho detto io che mi bloccavo da qualche parte è tutto bello per essere vero ooo gribio ok 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 ma voi non avete capito che ma dove cazzo sto andando non ho visto i cosi avete capito che qua si diventa sempre più difficile il gioco senti non mi dovete scassare voi direte ma sei mongoloide si 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 confermo confermo guarda ti giuro nitro di merda di nitro di merda oggi 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 adesso qua è difficilissimo ma che cazzo sto facendo anche io io muoio per cose non stupide di più ho la sensazione che perderò tutte le vite me lo sento ovviamente sono ringoglionita se no non sarei io se non sono ringoglionita e faccio questi errori stupide ma è difficile io non sono capace di fare queste cose ma che palli che palli che palli che palli che palli ti cazzo cazzo io cazzo 1, 2, 3, 4, 5 calma Marti un attimo con calma oh Dio, oh Dio no, no, no no, raga, non si riesce qua a fare sta cosa no ha panicato ha panicato difficilissimo ma che cosa cazzo sto facendo io? mi servono vite allora, allora no Sì ma qua è difficilissimo Ma che cazzo sto facendo No ma è difficile È difficile Ho deciso che forse quella scatola Non la prenderò Non la prendo La scatola Ho deciso Non la prendo Ma vai a cagare Non la prendo Mi faccio cagare comunque Che se non la prendo La mia sta PlayStation Spero che poi la PlayStation 5 Non faccia questo casino Che la PlayStation 4 Ormai è vecchia però No perché muoio così Che noia non riesco ad andare avanti Arriveremo sicuramente BD0 Oh mio Dio 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 No Dio Oh mio Dio Piavemi ha deciso non prendere più le scatole voglio solo finire il livello basta, mi sono rotto mi sono scassato mi fermo sempre per le scatole quindi chi se ne frega basta cagare a queste scatole di merda non prendo più a pasta dopo questo non prendo più perché non so neanche se riesco a arrivare alla fine di questa cosa mamma mia mamma mia a posto non mi interessa me ne faccio fare da mio ragazzo non devo prendere le scatole quindi non me ne deve fregare un cazzo di quella roba perché non salta? mamma mia perché ho fatto la TNT? perché sono saltata via? eh, questa è la vera domanda di nuovo questa maschera di merda ora va è una scatola gigante simpatici, vero? sono simpaticissimi ce n'erano anche un'altra però io l'ho mancata ovviamente perché sono stupida ma fa un culo fuoco di merda fuoco di merda dai, voglio solo finire il livello non so grazie, mi interessa ciao, proprio ciao ciao raga, è o cosa si può fare? adesso facciamo qualche livello con la cassetta facciamo il boss immagino che il boss ha una rotura di polle fammi vedere com'è questo boss magari è facile vediamo ecco pochi vite ed ecco che sono morta furbo ma frecato a te capo che noia che noia che noia non ora sì sono morta un'escalde a a a a a a a madonna a 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 mi sono sbattuto mi sono fatta malissimo no è però cazzarola cazzo cazzo ma fa culo a 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 che noia a 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 sempre su quella fila non è possibile sto arrivando a zero vite per per a 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 5 ore a 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 bastardo non so cosa fa non so cosa fa basta ti prego zio cane ma quanto durano? quale dell'ultimo? non so quanto durano le mosse che fa per ultimo e questo è lo spazio che posso fare miracoli zio zio See you E l'ultimo non so com'è, che giro fa, quante ne fa, quante ne fa, sto stronzo, porca troia No raga, dai, sto finendo le vite, noia E' vero che posso volare, no, non ce l'avevo pensato Che imbecile che sono Giusto, posso volare? No, vabbè Raga, potevo volare, fino adesso ho perso vite inutilmente Voi direte, ma questa è rincoglionita, questa ha problemi Sì, cazzo, che c'ha problemi L'avrei già finito da mo', vabbè, dai, a posto Scusate per l'ignoranza Cresce un vestito così, non si può vedere comunque Cresce un vestito così, non si può vedere comunque Buono, quindi adesso sblocco il nuovo mondo Ok, sarò un'altra porca mia Questo cresce è finito Nuovo mondo Adesso, così puoi farle l'incontro aereo Capisco Ok, io direi che può bastare così per oggi Perché sarà durato anche tantissimo questo video Bello questo mondo, sembra carino E nulla, io vi saluto Un bacione a tutti Notte, 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 sogni d'ora a tutti Ci vediamo al prossimo video ragazzi Ciao, 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 ciao Ciao, ciao